Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Due temi con molte interconnessioni e per i quali i giovani nutrono sensibilità particolare. Sono, come è noto, agevolmente digitali e manifestano tutt'altro che a torto un'intensa preoccupazione per lo stato dell'ambiente. Vorrei dire che tutti dovremmo affrontare il tema della transizione ecologica con la determinazione che caratterizza l'approccio dei più giovani. A loro è chiaro come la natura non possa più essere considerata come una risorsa da utilizzare e da sfruttare e come le risorse del pianeta non siano illimitate e non possono riprodursi costantemente all'infinito. Da qui l'urgenza di intervenire attraverso politiche lungimiranti e responsabili che stabiliscono obiettivi e riescono a mobilitare le risorse economiche, a suscitare investimenti. Politiche coerenti e stabili nel tempo, che creino un clima di fiducia e che promuovono con strumenti efficaci con i cambiamenti dei comportamenti e delle stili di vita che vengono richiesti da un processo così impegnativo. Contrastare il cambiamento climatico e proseguire con decisione sulla via della decarbonizzazione sono obiettivi non rinunziabili. Le politiche ambientali vanno integrate nelle politiche per la crescita. Non considerate un freno allo sviluppo. Lo sviluppo deve essere sostenibile. Diversamente è vano e illusorio. Per conseguire questi obiettivi, come del resto per guidare la transizione digitale, occorre far leva su una governance sovranazionale. L'Unione Europea, come è noto, ha assunto tra le sue massime priorità le due transizioni ed è innanzitutto in quella sede che l'Italia deve fornire il suo contributo e far valere le sue posizioni. Esiste anche il problema, attraverso l'Unione Europea attualmente, particolarmente, di rendere efficace la governance internazionale di entrambi i processi. Questi rivestono una dimensione globale, come poc'anzi veniva ricordato, e richiedono di essere affrontati, tenendo conto delle specificità culturali, economiche e sociali delle diverse aree del pianeta. Come è stato ricordato nella relazione introduttiva, nell'ambito della transizione digitale, l'attenzione tende a concentrarsi sulla intelligenza artificiale. Ci si chiede, come è noto, se sia già avviata una nuova rivoluzione, così come quella industriale a suo tempo ha surrogato la forza fisica, sostituendo le macchine alle persone. Così, adesso, la intelligenza artificiale appare, secondo taluno, destinata a surrogare le capacità intellettive proprie degli esseri umani. Si pongono, con evidenza, interrogativi rilevanti di natura etica. Quali decisioni devono rimanere saldamente nelle mani delle persone e quali possono essere affidate o delegate a un supercalcolatore? Pensiamo davvero che una macchina possa sostituire un medico nella cura dei malati o un giudice per redigere una sentenza? Non si può fare a meno di riflettere sulla irripetibilità di ogni singola persona umana e sulla irripetibilità di ogni situazione di vita. Quali rischi si corrono se il ritmo veloce di sviluppo e le sempre più ampie applicazioni della intelligenza artificiale rimangono a pannaggio di un numero limitato di soggetti globali, dotati di enormi risorse e che, nei fatti, si sottraggono a ogni forma di regolamentazione? Possiamo consentire una strenata competizione tesa ad accaparrarsi i dati relativi alla vita delle persone con il fine di utilizzarli per vantaggi economici e anche per influenzare le scelte, ogni genere di scelta. È tollerabile la manipolazione delle informazioni o addirittura la fabbricazione di false notizie. Allo scopo di condizionare la pubblica opinione anche nell'espressione del voto. La prima questione che si pone, allora, è qual è il soggetto chiamato a dettare le regole che tutelino la libertà del cittadino? Una prima risposta è già intervenuta a livello dell'Unione Europea con la dichiarazione sui diritti e i principi digitali per il prossimo decennio digitale. Diversamente, potremmo davvero pensare che basti affidarsi alle dichiarazioni unilaterali di buone intenzioni dei proprietari di piattaforme digitali nel mondo. Occorre globalmente una disciplina che consenta lo sviluppo dei progressi e delle opportunità, ma che tuteli la dignità delle persone. Non vi è dubbio, d'altronde, che la intelligenza artificiale possa fornire un grande contributo allo sviluppo del benessere dell'umanità e recare un apporto di ampio beneficio per risolvere problemi globali, inclusi quelli di natura ambientale. Pensiamo alle sue applicazioni nella gestione delle risorse idriche e nella organizzazione dei sistemi dei trasporti, nella medicina, come di a poco anzi ricordato, dove può aprire ampie prospettive di speranza. Pensiamo ai progressi nella telemedicina, che accrescono le possibilità di cura delle persone anche nei paesi più poveri. In realtà, come sempre nella storia, i risultati che la scienza consegna all'umanità aprono grandi prospettive di progresso e presentano insieme rischi di utilizzazione perversa. La scelta è affilata a noi, alle persone. Emerge con forza, quindi, l'esigenza di un sistema adeguato di governance che favorisca lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, assicurando, ripeto, che venga utilizzata per affermare e non per violare la dignità umana. Vorrei esprimere in conclusione una convinzione che mi sembra del resto conforme alla impostazione di queste giornate di confronto di riflessione, così come organizzate e predisposte. La transizione ecologica e digitale potranno aver successo solo se verranno concepite e attuate coinvolgendo i cittadini, le associazioni, le società civili nel loro complesso. Un numero sempre più alto di attori e di persone deve essere incluso nel governo delle transizioni e non soltanto per subire gli effetti. Questo è possibile se al centro dei processi di transizione sapremmo porre in modo condiviso dei valori. Il valore di riferimento di entrambe le transizioni di cui discuterete in questi giorni non può che essere in primo luogo quello dell'uguaglianza, della riduzione dei divari sociali ed economici. I cambiamenti climatici sono sovente all'origine delle disuguaglianze e in ogni caso li accrescono. Eba basti pensare alla carenza di acqua votabile che interessa interi Stati o al fenomeno della desertificazione, entrambi causa di conflitti e di grandi migrazioni di massa. Lo sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali va quasi sempre a vantaggio di pochi e contro gli interessi di intere popolazioni. Le politiche ambientali devono salvaguardare quindi le condizioni personali e sociali più deboli. E in ambito digitale lo sviluppo delle tecnologie può ridurre il divario digitale ma anche accrescerlo. E questo dipende dalle scelte che sapremmo compiere se accrescerà le differenze o le ridurrà. Porre la intelligenza artificiale a servizio di tutti e soprattutto dei più deboli e dei più fragili è la sfida che dobbiamo affrontare. Da quanto detto nella sua relazione il Presidente Federica emerge quanto la conferenza sia consapevole che l'approccio a questi temi deve essere a contempo prammatico e ambizioso. Debo coinvolgere i giovani chiedendo loro di avanzare proposte rilievi critiche. Mi sembra che si vada in questa direzione. Auguri quindi per i vostri lavori che si collocano in un quadro di ricerca di collaborazione istituzionale quella che rafforza la nostra democrazia. Grazie a tutti.